Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Mary e oggi facciamo un nuovo gioco di paura, dei Mimic insieme ai miei amici Alex, Dalila, Nora e la sorella di Dalila, Ciao a Sherin. Scriviamo a Nora quale lobby dobbiamo fare? La più paurosa. Scrivete voi perché io faccio fatico. Andiamo ragazzi, siete pronti a sentire urlare? Ora già si mettono paura, io sono super coraggiosa. Già di oggi sparmiata che non ho messo Nightmare. Questa prima ho messo Nightmare. Cos'è sta cosa? Allora già si è bloccato tutto, non vedo più niente. No è in prima persona. Sì è in prima persona, oddio già vedo una mano, attenzione il gioco quanto le luci lampeggiante sta. Ecco, iniziamo raga. Quindi che dobbiamo fare? A me sta camminando la sopra, wow che succede? Ah raga devo andare la voce, ci sono Nora? Nora non ci ha abbandonato dice dove. Vediamo Nora. Nora non ci sento niente. Nora dove ci porti? Oh, guarda dopo quando dice lui. Non è cattivello. Mi intanto guarda indietro perché c'è un po' di regga. Non ci riscappiamo. Ok. Non si apre questa porta Nora. È chiusa. No, mi vedi di qua. Non si può andare. Qua non si può andare. Raga, mezz'ora solo per scoprire dove cacchio si inizia a giocare. Qua che dice? Anche questa porta sembra chiusa a chiave. Forse dovresti trovare una porta sul retro. Dove siete andate? Ah. Sì. 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 Che bel gioco. Che bel gioco, guarda. Fa paurissima te. Non ci troviamo manco la porta dentro d'inizio. Rimaniamo fuori, fa dietro, mi dispiace. Mostro che aspettiamo fuori. Niente. Siamo nel punto di partenza. Separiamoci. Casa, no, non mi separo. Aspetta, raga. Troviamo sta cacchio di porta. qui c'è una porta. Raga, eccola qua la porta. Ma non è uscita. No, è uscita. Ok. Suppongo che dovrei controllare. Sì, non ho guardo solo. Ah, ma questo... Raga, dove è la palestra? Qua. 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 Dovete paura, ragazze, davvero a dire? Che cosa ti fai? Raga, io non ho perso. Raga, io non ho perso. Raga. Raga, io non ho perso. Raga, io non ho perso. Quindi non è qua. Raga dove siete? Io non ho perso. Io non ho perso. Ah, ecco te. Dobbiamo perso un'ora. Eh, raga, no. Ho trovato la mia palestra. I need... I need... Devo andare dall'altra parte della palestra, qua mi dice. Raga, ho trovato la palestra. Spera. Dove sei? Dove sei controllare la vicina? Ma ho trovato... Siamo tutti nella palestra e tu manchi. Sono una proia. Raga, di qua. Raga, di qua mi sa. Eh, ma ho trovato la palestra io. Eh, ci sto in palestra. Di qua è la porta. Sì. Di qua è la porta. È l'aperta. Sì, qui. Di qui. Qui, qui. In tutta questa... Nora. Di qua. Fino ad adesso non mi è ancora uscito. No, raga. Cambiamo... Non mi piace. Cioè... Non fa paura. Cambiamo. Entra Alex. Ok. Ma sono qua? No, è dentro la mappa. No, è dentro la mappa. È in qua. La mappa. Ah, sono qua. Sono qua. Mi stiamo bene. Ok. Facciamo? Facciamo tutti, facciamo... Chi è uscito? Ho fatto startio. Chi è uscito? No, cazzo. No. Perché sei uscita? No. No. No, dai. No. Quindi non ci sei? No. Cioè, non abbiamo fatto la mappa di Nora e Nora non c'è. No, raga. No. Uscite. Ora riuscite a rientrare. Oddio santo. Non finiremo mai questa registrazione. No, è entrato anche nobati. Va bene. No, no. Scherzo. No, no. Sono una persona. Quanti nobati sono strati. È uscito, Le? No. Deciditi. No, s'arri. Non dovete fare vai. Se fate vai... Fai presto che è rimasto solo un posto. Ok. Non fare niente. Non toccate niente voi. Ok? Non toccate niente. Devo cliccare io. Vai. Eh, vabbè. Se tu fai vai, esce. All'inizio io facevo vai. Cioè, ma quando inizia sto gioco? Niente. Uscite sempre dall'alone. Adesso, ragazzi. Adesso arriva il bello perché adesso sentite Alessi, Dalila e Shani urlare. Perché ho messo Nightmare. Che sei messo? Nulla, nulla. Sì, pregunto. Ma io... Per... Per... Meglio esperienza con le cuffie. Sì, ma non posso mettere le cuffie altrimenti non si sente... Ma c'è questa musica da... Conti, Lara. Conti, Lara. Senti. Per fare... Almeno i miei arti sono ancora intatti. Poi se posso guardarmi intorno per chiedere aiuto al proprietario di questo posto. Alessio? Ah, ecco. Allora... Ho preso questa cosa. Afferra. Una candela. Ma chi è questo tizio? È il primo posto. È Nora. Ciao, Nora. Va bene. Quindi dobbiamo chiedere al proprietario, ha detto. Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, dobbiamo fare... Eh... Sì, ma... 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 Che brutto. Dove sono gli altri? Ma... Raga... E da un'altra parte sono andati. No, no. Vabbè... Vediamoci. Io non... Sì, ma... Non mi abbandonare, no. Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... la politica che l'ho stato, che l'ho stato, l'attenzione... Torna indietro, dalila! Dai, là. Ah! Questo ha scritto qualcosa, beh... Eh... No, ma... Stai fatto qui. Ragazzi, sentite qualcosa, ditemi, non sento niente. Non sento! Ecco. Mken, amore! Che è successo? Con i gatti? Che significa? Ah, si aprono i cassetti Non li fa aprire Ma neanche me Ma sediamo il tizio, secondo me è molto informato Ma esatto Che ha scritto? Ma si Non so un trucco Va bene, seguiamolo No, cambiamo l'idea Ok Vado in avanti dai Cosa dobbiamo fare? Vabbè cambiamo Si può sapere cosa dobbiamo fare? No Non so manco lui Ragazzi evitemi Sono esperta in questi giochi Andiamo in là Ragazzi 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 Mi siamo girati, oh oh. Ma io mi sono girata, c'è una faccia, insomma, in faccia a me. Ma come, ma come Dio, mi ho detto, no, 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 no. Era una signora che ti voleva abbracciare. Che facciamo? No, vai. Vado. Quando ho sentito un orlo ad Alessio? No, perché io ho visto tutto in diretta, Alessio si è girato e si è trovata a questa persona di faccia. È pare che uno mi edicherà sto video, ma di faccia, mi sono girato con la mia presa, scusate un colpo. Qual è sto rumore? Not more. Allora, qua ci sono dei cassetti. Cos'è qua? Un cassetti. Cos'è? Prima c'erano un armadio e io non mi sono nascosta. Ma tu mi ha preso niente. No, ragazzi, sono stata... Sono stata? Come sono finita in un'amica? Ah, non so nemmeno dove sia la mia parte. Cosa mi dovrebbe venire a scocciare? Abbiamo capito la città. Una balena. Almeno le mie arti sono ancora intatti. Questo è il vostro cardano intorno per chiedere aiuto al proprietario di questo colpo. Sì, se è la proprietà della città di prima, guarda, stiamo proprio in questi bene. Tu ci sponda dietro? Allora, fatto che... Non si aprono? Ah, guarda. Vai avanti tu. Alex, vai avanti. Sì, mi si aprono. Chi è? Sono io, no? Che sono io? Dove siete? Ok, dico... Adesso siamo con due idee. Dove siete? Io non sento nulla. Fora di uscire. Si è bloccato. Sto buggando. No, Mary. Che? Che c'è? Non mi abbandonare. Siamo qua. Pensavo che era giusto. Adesso, che c'è? Siamo in un armario. Ma qua si esce. Come è in un armario? Ah, questo è un giardino. Tu gli armari. Ma non so, ci sarà qualcosa da qui nascondersi. Sì. Sì. Dai, guarda che mi nasconde. Qua si va bene. Cosa è la cosa? Sì, quindi? Dai, qualcuno deve tenere il cos'è alzato per sentire, però, eh. No, no. Tieni tu. Eh, no, io non posso. Com'è, non si sente la mia voce. No, c'è un problema. No, no, no. Adesso, se è bello davanti, io ho visto la frega, l'ho mangiato. Mentre. Aspettiamo adesso. Oddio. Oddio. Oddio, oddio, oddio. Guarda. l'ho visto tipo qualcosa. Mi lascia lo dietro da l'estero. No, 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 io non voglio. Danila, vieni qua. Dove un crescento di un bui. Come? Oddio. L'ho visto tutto da l'estero. Dove sei? L'ho visto l'ombra. Ale, fai presto. No, no. Fatto? È fatto? Perché non c'era? Ti ho detto che c'era un'ombra. Non c'era un'ombra, Mary. Ho visto un'ombra? No, Mary. Vai tu, ciao. Mi ritiro. Qua siamo passati. Qua c'è un altro armadio. C'è un'altra porta. Questo no, non si apre. Ma perché non farsi i giochi? Passo con il gioco. È divertente. Mi ricordo, Alex, due secondi fa. Mi piace sto gioco. Ti ho messo nightmare. Ha più paura. Ah, grazie. Togliamoci qua. Magari è un gioco. Esatto, non è sto gioco. Basta la cosa? No. No, ma che sento stranissimo. Sì? Eh? Oh? Che suoni? Ti vuoi? Mi sta avvicinando? Qua c'è il gioco. Ketchup? Sì, ketchup. No, mi sono bloccato il coso. Alex, muorvi. C'è bloccato il mouse. Ciao. Ma io devo sentire. Sentimi. Aggiustare, ok. Fatto? Allora, qua c'è un'altra volta. Ma non ho capito, cosa dobbiamo trovare? Non lo so. Sì. Cos'era? Mary? Che c'è sto rumore? Che c'è sto rumore? Cosa era? No, Alex. Quando è morto, Alex, ci vuole. Mi piace tutta cosa? Io tengo la faccia bassa, non c'è niente. Ma ragazzi, devo alzare la voce, perché non è possibile. Io vorrei ancora entrare a Livano. Ma ragazzi, non c'è nessun trenzoni. Ma non c'è il volume abbassato. Cos'è quello? Quello cosa? Ma... Mi dice, me la faccia. E' proprio c'è. Oddio, ragazzi. No, stavo mai. Non lo so, mi la faccio qua. E' divertente. Dove si... Che cosa c'è? Non lo so, Anita. Non lo so, Anita. Che posso dire? Piano, 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 piano. Cos'è qua? Sì, piano, piano. Room with slendermen will protect you. Che vuol dire? La stanza di Nightmare... C'è qualcosa. Ragazzi, qui c'è qualcosa. Leggi. Ratti velenosi. In inglese, ragazzi. Non credo di scontuvero. Cosa dobbiamo fare? Apriamo i cassetti. Ma che voli di sotto si aprono? No, tutti. Io sto volendo di cuore. No, fino adesso non è successo niente. Grazie, ma è una pubblica? No, non c'è nessuno. Allora, finito adesso... Qua, qua, per minuto. Che succede? Perché urli? Adesso è morto. Non è bloccato! Non è bloccato! Ha visto la porta! Mamma mia! Sei da vivi, raga? Cioè, adesso non è morto. Dalila! Perché sei uscita? Non è morta pure Dalila. Dalila! Madonna! Non mi manca! Sei vivo nella vita reale da adesso. Ma Dalila, perché sei riuscita? Non è riuscita, ma... Ma perché sei riuscita dalla... Ma stavamo insieme nella stanza. Ciao adesso. Ah, ciao. Raga, salutiamo. Raga, grazie per averci seguito. Spero che questo video vi sia piaciuto. E che abbiamo fatto fare... Una risata. Scrivete, lasciate tanti like. Scrivete nei commenti se volete vedere la parte 2. No, non è riuscita a fare bene. Ti vedete al canale, lasciate la campanella, lasciate tanti like. Al prossimo video, bella ciao! Ciao!